buongiorno il 3 marzo è una fantastica giornata per fare backcountry dopo una bellissima notte nello snow camper del tinoppi siamo pronti per andarci a fare una bella passeggiata sta riempita gente come proprio come se non ci fosse un domani pare ostia fare schialto fare un coso di schialto il brada con il numeretto attenzione si contano sei 37 38 39 40 ma che sei una subaru io ho risposto no sono una lancia dedra così ti fa il misto per il gran paradiso senti non camminare sui pirimuchi cazzo rovinatore di cose dai scena gli attacchi verticali in coppa cobra avanti leo con i primi sintomi di lingua felpata fiato e bacchetta a voto il chi dobbiamo pigliate chi proprio parla più che sarà uno di solito chi no più parla e c'è chi no più parla più che sarà un'ora guardate guardate il campo il campo è laggiù e noi rivedremo laggiù con le nostre tavolette a prescindere vabbè niente continuiamo a salire perché giusi ha detto dobbiamo salire facciamo un bel kicker facciamo un bel kicker no saliamo ha detto giusi saliamo dobbiamo salire grossotti e uh un sp Sì Grazie a tutti.